La maternità surrogata e la più forte violenza fatta alle donne e ai bambini dopo la fine della schiavitù va abolita. Ieri sera a Parigi è stata firmata una carta per chiedere l'abolizione universale della maternità surrogata o utero in affitto. E con l'associazione Provita Elisa Gomez, madre surrogata, ha lanciato il suo appello al Senato a Roma. Abbiamo raccolto la sua drammatica testimonianza. Elisa Gomez del Minnesota ha due figli grandi e nove anni fa ha scelto di fare la madre surrogata. Mia figlia all'epoca aveva delle difficoltà e volevo stare a casa di più con lei ma avevo necessità economiche. Per questo ho pensato che la surrogasi poteva essere una strada. Ho deciso di registrarmi online a un sito per madri surrogate e tra le varie coppie ho scelto una coppia gay che ho incontrato. Mi sono piaciuti. Ho firmato il contratto e ho fatto l'inseminazione. La gravidanza è andata bene, erano carini. Mi avevano promesso che avrei potuto mantenere la relazione con la bambina. Ma dopo il parto hanno cambiato atteggiamento, non mi hanno lasciato in pace. Ho capito che c'era qualcosa che non andava. Quando mi hanno lasciato a casa e hanno portato via la bambina ero inconsolabile. Avrei voluto tornare indietro, ma non potevo. Da allora sono entrati in una grande confusione. Ho provato un dolore immenso. Racconta poi di un processo lungo e complesso in cui sono state falsificate le prove. Elisa non ha notizie di sua figlia, non la vede da quando aveva due anni e mezzo. Racconta, da quando ho testimoniato al Senato americano contro la maternità surrogata, mi hanno impedito di vederla, ma non capisco perché. È in Italia per lanciare un messaggio, un appello. Sì, voglio che le persone sappiano, la mia storia è complicata e drammatica, ma non sono l'unica. Ci sono moltissime donne come me che non possono parlare perché viene loro impedito, vengono minacciate, non possono vedere i loro figli. Chi affronta la surrogasi pensa che è ok, che è qualcosa di generoso, ma non è così. Il mondo dell'utero in affitto è molto corrotto. Non c'è nulla che riguardi i bambini, ruota tutto intorno agli adulti. Cosa direbbe una donna spinta a fare la surrogasi, la maternità surrogata, dal bisogno, dalle necessità economiche? Risponde, le direi, trova un'altra strada a non usare il tuo corpo come mezzo. I bambini non possono essere comprati e venduti. C'è un motivo per cui non possiamo vendere organi e c'è un motivo perché la schiavitù in America è stata abolita. Si è abituata a questo dolore? Le chiedo ancora. Avrei potuto cadere in una depressione molto, molto profonda, ma tuttavia ho continuato a lottare per mia figlia, anche se le persone vogliono silenziarmi. Continuo con il volontariato, la pittura, che mi aiutano ad andare avanti. Sono grata di aver avuto abbastanza incoraggiamento per tirarmi fuori da questo dolore, da questo lutto così grande, ma moltissime donne cadono in una depressione molto profonda. Che collegamento c'è tra maternità surrogata, quello che noi chiamiamo utero in affitto e legge Cirinna? Nella legge Cirinna non esiste, non è scritta la parola maternità surrogata, ma la stepchild adoption. Quella pratica che permetterebbe ad un uomo omosessuale di adottare il figlio che il suo partner ha ottenuto attraverso la maternità surrogata all'estero. I senatori si devono chiedere se vogliono promuovere questa industria, questo mercato della maternità surrogata, incentivando coppie di uomini ad andare all'estero, perché due uomini e due donne naturalmente un bambino non lo possono fare. Si obietta però che con la legge 40, con l'eterologa, già ci sono coppie, e soprattutto tante coppie eterosessuali, che ricorrono alla maternità surrogata, vero? La maternità surrogata, che sia per gay, etero o singles, è immorale perché non tiene conto dei diritti dei bambini che sono delle persone umane. La legge 40 include anche fino a un milione di multa di euro e un anno di carcere, chi promuove embrioni, la media di embrioni, gameti e la maternità surrogata. Noi di Provita abbiamo già denunciato a settembre una riunione della Fertility Clinic a Milano, dove noi abbiamo avuto due attivisti che hanno registrato tutto e non sappiamo ancora nulla dal Tribunale. Di fatto quindi in Italia è vietato ricorrere all'utero in affitto? Qui non si può, però ci sono persone che vanno all'estero e che poi quindi si fanno riconoscere comunque il figlio come proprio? No, non solo quello che lei ha detto. In più vi sono organizzazioni come Prepara, Extra Conception, la Orga, Zakarova, che promuovono la maternità surrogata in Italia. Inoltre abbiamo i tribunali come quello di Roma, di Milano e di Bologna che sono creativi e che già danno le adozioni e gli affidi ai bambini prima ancora che la legge venga passata. Ieri, il 2 febbraio, si è svolta la conferenza internazionale contro la maternità surrogata, una raccolta di firme, una iniziativa appunto internazionale per chiedere di fermare la surrogasi in tutto il mondo. Sì, quello che io trovo bello è che a differenza di opinioni politiche, religiose, sta avvenendo fuori un mondo del buonsenso. A questa riunione di ieri non vienono solo persone come Jennifer Lal, che la pensa chiaramente come noi, ma Lagacinski e altre che sono femministe, alcune sono anche lesbiche, ma quando mai si è nella storia comprati e venduti, si sono comprati e venduti i bambini, quanto mai ci sono state queste pratiche disumane?